Ciao a tutti, oggi è domenica 11 giugno 2023, vi volevo far vedere una cosa un po' diversa e noi qui a Parma, poi in tante altre zone d'Italia, noi quando seminiamo l'erba medica tendiamo a seminare il radicchio, la cicorie, cicorie da taglio miste e volevo farvi vedere queste qua seminate con la seminatrice, sono tutte belle, vedete? ho la seminatrice a doppia fila, vedete? le ho seminate, prima mio fratello ha steso l'erba medica e poi dopo io e la Veronica abbiamo caricato la seminatrice e via, vedete che belle file, sono lunghe, vanno fino là in fondo non so se si vede, saranno 50 metri, vedete che belli? adesso chiaramente fa schifo perché sono tutti pelosi, però dopo quando taglia le erbe le tiene tagliate e quest'inverno sono buonissime, quindi se per chi di voi fa il contadino e a i campi, vedete che belli, e poi ne ho messi due o tre bustine con la seminatrice, vedete? le sfide si vedono, avevo messo anche dei rapanelli ma li abbiamo già mangiati, se no vi facevo vedere adesso non mi ricordo se qui, guardiamo se ce n'è qualcuno tanto che andiamo dall'altra parte dell'orto qui ho messo dei rapanelli, poi quest'anno è piovuto e poi le radiche sono molti bellissime chiaro che se non piove, no, qua non ce ne sono più, perché alcuni li ho raccolti li ho raccolti da, per tenere il seme, adesso non mi ricordo più dove li ho messi ma erano in quella zona qua, vabbè, niente, non si vedono, comunque anche quelli ho il disco anche per i rapanelli e vengono belli, vengono belli anche quelli, via, in pieno campo, se avete un campo che dovete far seminare o dovete seminare potete usare questa tecnica, allora, tanto che siamo qui faccio vedere anche la parte dei semi, queste sono tutte bietole da costa dell'anno scorso che avevo un po' sparse in giro, poi le ho tutte tolte e messe tutte vicine, adesso stanno andando insieme, vedete, qui ce n'è una valanga, poi ne ho anche da altre parti, poi qui invece ho l'insalata, la lattuga, vedete, c'è un misto, c'è il misto che mi ha mandato Alessandro, per il progetto su qualità sementiera, e ne ho mangiate una parte, l'altra è andata, e poi qua c'è nell'altra parte, vedete, questi qua sono tutti, questa qua è tutta insalata che, quella che è nata in semenza prima l'abbiamo raccolta, l'abbiamo mangiata e poi ne avevamo tantissima, queste qua sono carote, queste qua sono carote, seminate con la seminatrice a doppia fila, adesso le sto pulendo perché c'è un sacco d'erba, però vedete, adesso devo mettermi qua e li pulisco, comunque le semino sempre con la seminatrice, queste, e questi qua sono topi in ambo, messi direttamente i tuberi a marzo, vedete che belli, dopo crescono che se non li mangiano i topi, vengono belli, ne faccio sempre una fia, adesso qua c'è da togliere l'erba, eccetera, andiamo dall'altra parte, allora questa è la parte dei semi, tengo dei cassoni pieni di terra, vedete, dove metto le piantine per andare in semenza, cioè o i semi, per esempio questi qua sono rapanelli, li avevo in pieno campo, li ho tolti e li ho messi qua per far andare in semenza, per tenere il seme, qua c'ho della lattuga, o non so se lattuga, o è cicoria, credo che sia lattuga, però non mi ricordo questa qua è nata da semi che avevo lasciato, queste qua comunque sono rapanelli, queste qua sono erbette, vedete le coste, qua ci sono la verza violacea, quella lì è lattuga, credo, però non sono sicuro al cento per cento, queste qua sono verze che stanno andando insieme, le avevo nel filare, le ho tolte e le ho messe qua, ho tolto le piante più belle che sono andate insieme più tardi e le ho messe qua, e qui abbiamo del sedano che sta andando insieme, vedete le ho messe qua e dopo lo raccoglieremo tutti. Allora in questo filare abbiamo messo fagiolini, allora questi sono fagioli che abbiamo avuto da uno scambio insieme, adesso ci devo mettere una rete perché contavo di farli arampicare qua, ma alcuni si arampicano, altri no, adesso comunque dovevo metterci una rete con dei tondini perché sono arampicanti. Questi sono fagiolini nani, fino in fondo, questi sono i girasoli che mi ha mandato Alessandro e Diego per il progetto su guarità cementiera, abbiamo fatto una fila in mezzo, questi li abbiamo messi i primi li abbiamo messi in germinatoio, poi abbiamo trapiantato le piantine, infatti sono più belle le altre, ho seminato i semi diretti, infatti a cui non sono nati, e queste qua sono tutte arvette, vietole da costa, seminate, c'era una fila fino in fondo, ok poi andiamo da altri filari a vedere, allora qui questo l'abbiamo già visto, ci sono pomodori insalata, tutto il filare e curbitacee in fondo, qua abbiamo altre erbette che stanno andando insieme, che ho trapiantato e poi ci sono il cacciopo bianco di pertosa, li abbiamo già raccolti, qua questi perenni, questi qua sono i cacciofini che stanno venendo, vedete ce n'è qualche uno, li stiamo mangiando, sono le altre erbette e poi ci sono delle da metà filare, ci sono delle fave, questi qua sono altri che sono sempre cacciofi, vedete, questi cacciofini, qua ce ne sono, ce n'è la fila e qua, queste qua sono tutte fave, vedete, adesso li stiamo raccogliendo man mano, adesso dobbiamo metterci a raccolti, qua le ha già raccolte la Veronica, secondo me che non ce ne sono tante, vedete queste, qua vedete quante, fino in fondo, in mezzo ci sono i carciofi, vedete, li ho messi da una parte, li abbiamo messi da una parte perché non sapevamo più dove mettere delle fave che ne avevano tanti di semi e questo è un filare, poi adesso andiamo a filare dopo, qua c'è dell'uva, metterla a posto, dove passiamo, li adrezziamo, anche qua, tende a venire giù, ok, poi qua invece abbiamo il mais, sempre di Alessandro e di Diego, per il progetto sovranità sementiera e poi ne ho messo anche del mais sottofile che mi hanno dato uno scambio semi a Borgotaro e fino in fondo, bello, e poi qua a Postarelle ho messo dei fagioli nani, vedete, stanno andando in fiore e questo qua è sempre 50 metri fino in fondo, poi qua abbiamo, allora qua abbiamo, questo lo vediamo tra un secondo, queste sono le cipolle del progetto sovranità sementiera, ce ne sono cinque o sei varietà e sono ancora non sono bellissime, però, perché il seme è arrivato abbastanza tardi, però sono state seminate nelle vaschette, poi ripicchettate e poi messe a demora col trapiantatore, vedete, ce ne sono tre fili da 50 metri e questa qua è all'inizio, arriva fino lì, vedete, ce ne sono tante e una parte le rimanderò per il progetto, 4-5 bulbi per tipo, vedete, ma fino in fondo. Negli ultimi due filari invece avevo le cipolle che ho seminato io al 15 d'agosto, sempre da seme, sono una varietà acquistata subito ai sementi, solamente che c'è stato un secco della madonna, non è piovuto e stanno andando a seme. Li stiamo mangiando cipollotti, la Veronica li viene a raccogliere, però ce ne senerà un filare, le più belle le stiamo già mangiando e una parte, visto che sono tante tutte assieme, una parte del terro e da seminare da mangiare come cipollotto. Le seminiamo il 15 d'agosto, vediamo se anche l'anno prossimo andrà tutta in semenza, vediamo se probabilmente è stato il caldo di quest'anno. E qui ci sono delle altre cipolle, c'erano delle cime di rap e poi abbiamo messo della lattuga che sta andando in semenza, della Sant'Anna, della Romana, vedete. Adesso dopo raccogliere la semenza, poi ci dà una bella trinciata, vedete, c'è qualche cipolle come quelle di prima, vedete, andando insieme e poi ci dà una bella trinciata qua e via e si riparte. Non so se ci metto le cime di rapa qua, adesso vedo in base al lavoro che abbiamo sempre, comunque fino agosto, ne mettiamo le cime di rapa. E poi abbiamo questo filare qua, che diciamo è l'ultimo, dove abbiamo l'aglione della valdichiana, ma poco perché costa una follia, costava e adesso questo qua lo tengo tutto da seme. È nato tutto in semenza, nel senso ho fatto tutti i fiori, li ho tagliati perché chiaramente si tiene il bulbo e poi da quello moltiplicherò. Questa invece è una cipolla, una cipolla ramata di palma o gialla di palma, gialla forse, e quello che si chiama density, una cosa del genere. E queste qua le ho seminate io l'anno scorso da seme, ho ottenuto i bulbilli, i più belli li ho messi e ci farò tutta la semenza, da queste, vedete ce n'è. Qua in mezzo ci sono le fave che stiamo raccogliendo, vedete? Man mano le stiamo raccogliendo, un po' le abbiamo raccolte, vedete? Questa è sempre una cipolla di quelle là, queste qua sono fave che mi ha mandato Alessandro, questa fila qua, non questa, questa, sempre per il progetto su vanità sementiera, queste sono le nostre e queste sono quelle di Alessandro, vedete? E queste sono le cipolle di alife che mi ha mandato Alessandro, mi ha mandato i bulbi, 6 o 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 bulbi, vedete? Stanno per fiorire e poi una parte li rimanderò per il progetto su vanità sementiera e l'altra parte la condividerò sul progetto biodiversità condivisa, per chi le vuole. E nient'altro, non ho nient'altro da farvi vedere, l'orto finisce qui e vi ringrazio per aver visionato questo video, se avete qualcosa da chiedere chiedete pure nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo di telegram che siamo disponibili per qualsiasi cosa, va bene? Vi saluto, vi ringrazio, ciao a tutti e alla prossima, ciao, ciao, ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti